Cosa Nihann, accecata dalla sete di giustizia, riuscirà finalmente a scoprire il segreto che avvolge la morte di Ozan o le sue azioni rischiano di far crollare tutto? Asu si trova nell'ufficio di Emir. Dopo aver ricevuto la notizia del presunto risveglio di Gurgan, chiama Tariq per informarlo. Con tono deciso, gli ordina di recarsi sul posto immediatamente dopo aver concluso la chiamata. Tariq accetta, seppur con una punta di esitazione. Terminata la telefonata, Asu si volta verso Emir, visibilmente irritata. Potevi trovare un modo più diretto per mettere Tariq di fronte a Kemal e Nihann. Questo tuo piano è inutile, lo accusa. Nihann interviene, sostenendo che avrebbero potuto semplicemente consegnare i filmati che mostrano Tariq mentre appende Ozan. Resta con me fino alla fine, perché scoprirai nuovi sviluppi impensabili quello che farà Kemal ti stupirà. E se non vuoi perderti altri contenuti come questo, iscriviti subito al mio canale. Emir scuote la testa e con un sorriso misurato ribatte, non funziona così, tutto deve sembrare casuale, l'incontro tra loro non può essere forzato. Poi, con uno sguardo sicuro, aggiunge, il momento giusto arriverà presto, fidatevi di me. Altrove, Merian riceve la stessa notizia sul risveglio di Gurgan. Senza perdere tempo, chiede al collega, chi ha diffuso questa informazione? Il collega, colto di sorpresa, non sa dare una risposta chiara. Mentre riflette su questa incongruenza, incrocia Akan che esce dal suo ufficio con un'espressione abbattuta. Akan la guarda, poi confessa. Probabilmente perderò il distintivo e verrò espulso dalla polizia. La sua voce è carica di rassegnazione. Merian, mantenendo un tono che bilancia comprensione e professionalità, gli risponde, mi dispiace per come sono andate le cose, Akan, ma il nostro lavoro richiede integrità. All'Accademia di Polizia ci hanno insegnato regole precise da seguire. Akan abbassa lo sguardo, incapace di replicare, e si allontana con passi pesanti. Merian lo osserva, consapevole che ognuno di loro è vincolato dalle scelte fatte e dalle conseguenze che ne derivano. Akan si allontana con passo lento, quasi studiato, come se volesse essere seguito. Ma Merian non ci sta. Lo richiama con voce ferma, che tradisce un filo di impazienza. Mi hai detto tutto sul caso di Ozan? Lui si volta, il volto attraversato da un'espressione indecifrabile. Per un attimo, sembra stia per rivelare qualcosa, ma poi scuote la testa, e con una calma inquietante, risponde. Le risposte che cerchi, le troverai da sola. Quelle parole sono come un colpo al petto per Merian. Irritazione e determinazione si intrecciano nei suoi occhi. Non si lascerà fermare. Deve sapere la verità. Costi quel che costi. Nel frattempo, Feime accompagna Zeynep all'ecografia. L'atmosfera nella sala è strana, quasi sospesa. Quando il medico annuncia che il bambino sta bene e che la gravidanza procede senza problemi, Feime sorride, rassicurata. Ma quel sorriso cela un'illusione. È convinta che il padre del bambino sia cacca. Zeynep, seduta accanto a lei, non dice nulla. Il segreto le pesa, ma non è ancora il momento di affrontarlo. All'ospedale, Tariq si avventura nei corridoi silenziosi fino a raggiungere la stanza di Gurgan. Lo trova disteso, immobile, con il respiro appena percettibile. Non si è ancora svegliato. Tariq si avvicina, ma una guardia lo nota e gli chiede bruscamente cosa ci faccia lì. Cercando di mantenere la calma, Tariq mente. Dice di essere un amico di Gurgan, che lo aveva portato lì e che era stato avvisato di un possibile risveglio. La guardia scuote la testa. Non è stato un risveglio reale, solo un riflesso motorio. Tariq finge di accettare la spiegazione, ma mentre si prepara ad andarsene, la guardia gli chiede la carta d'identità. Un controllo. Proprio in quel momento arrivano Nian e Kemal. Lei è visibilmente ansiosa, con gli occhi carichi di speranza. Gurgan si è svegliato? chiede con un filo di voce. Vuole che lui confessi tutto alla polizia, che ponga fine a questo incubo. Kemal la osserva in silenzio, condividendo il desiderio, ma un'ombra di diffidenza gli vela lo sguardo. Tariq, nervoso, recupera il documento e si allontana. Ma Kemal lo nota. Qualcosa non torna. Perché Tariq è qui? Nian si avvicina alla guardia per chiedere informazioni, ma si sente rispondere che non può accedere alla stanza. Quando torna da Kemal, nota il suo volto teso. Che succede? Gli chiede, ma lui non risponde subito. Devo fare una telefonata di lavoro. Dice infine, allontanandosi. In realtà, Kemal chiama Tariq. La voce di suo fratello è falsamente serena. Dice di essere al tribunale per finalizzare il divorzio con Banu. Ma Kemal non ci casca. La menzogna è evidente. Il pensiero che Tariq sia legato in qualche modo a Gurgan diventa quasi insostenibile. Chiude la chiamata senza troppe parole e si perde nei suoi pensieri. La mente lo riporta al passato, a quel momento nel capannone, quando Emir aveva pronunciato quelle parole velenose. Il vero assassino di Ozan è tuo fratello, Tariq. Allora non gli aveva creduto. Non poteva crederci. Ma ora, quella frase ritorna. Più pesante e concreta che mai. È come se il sospetto stesse prendendo forma. Una verità oscura che non può più ignorare. Leila è sola nel suo ufficio. Ma l'aria sembra vibrante di tensione. I numeri sullo schermo del computer non mentono. I profitti dell'azienda hanno subito un'impennata improvvisa e inspiegabile. Si morde il labbro, indecisa. Non può ignorare questa stranezza. Prende il telefono e chiama uno dei responsabili. La voce dall'altro lato, troppo esitante, non le trasmette sicurezza. Leila non è convinta, anzi. Quelle risposte vaghe, quasi forzate, accendono in lei un campanello d'allarme. Chiude la chiamata senza salutare, afferra la giacca e si dirige verso l'uscita. Deve capire cosa sta succedendo. Nel corridoio si imbatte in Galip. I suoi occhi lo scrutano con determinazione mentre gli spiega l'anomalia. Galip sorride. Quel tipo di sorriso che cerca di disarmarti. Leila, è una buona notizia. Perché complicarti la vita? Ma lei non ha bocca. Il sospetto è un tarlo che la sta divorando. Si avvicina un passo, il suo sguardo incalza. Questo aumento è sospetto. Non succede nulla per caso, Galip. Lui si irrigidisce appena, ma tenta ancora di liquidarla. Alla fine, però, il suo tono cambia, tradendo una punta di nervosismo. Parlane con Nihan. Sai che nulla accade senza il suo consenso. Leila lo osserva, scettica. Poi si allontana. Deve arrivare in fondo a questa storia, e non importa quante porte dovrà aprire per farlo. All'ospedale, Kemal è immobile, con lo sguardo fisso su Gurgan, che giace immobile dall'altra parte della vetrata. Ogni secondo che passa è un peso sul petto. Sa che il risveglio di quell'uomo potrebbe cambiare tutto, mettere un punto a una verità che continua a sfuggire. Accanto a lui, Nihan cerca di mascherare la sua inquietudine. Kemal rompe il silenzio. Non ha senso restare qui. La polizia sta facendo il suo lavoro. Le sue parole sono calme, quasi distaccate. Ma Nihan capisce che sta mentendo. Per lui, restare lì non è inutile. È una lotta contro il tempo, una speranza che non vuole spegnersi. Si incamminano verso l'uscita, ma Kemal si ferma di colpo. Nota una donna con due bambini poco più in là. Il suo tono, mentre parla dei loro padre, lo incuriosisce. Fa un passo indietro, si avvicina e la chiama. La donna si volta. Lo guarda con un misto di esitazione e paura. Sono l'ex moglie di Gurgan, confessa alla fine. Kemal le parla con calma, cercando di capire. Gurgan era stato minacciato, ma da chi? Lei abbassa lo sguardo, poi racconta di come i loro figli siano stati presi in ostaggio per due giorni. La sua voce è carica di dolore e rassegnazione. Kemal si inginocchia davanti ai due bambini. I suoi occhi si ammorbidiscono. Ricordate chi vi ha portati via? I bambini si guardano, incerti. Lui tira fuori una foto di Assu. I loro occhi si stringono, confusi. Scuotono la testa. Era un uomo. Kemal estrae un'altra foto, quella di Tufan. Questa volta i bambini annuiscono. Era lui. Kemal rimane in silenzio. Il suo sguardo si perde. Un nuovo tassello è stato trovato, ma invece di sollievo, sente solo il peso di una nuova responsabilità. Altrove, nell'ombra di un ufficio, Merjan è seduta davanti al computer. Le sue cuffie trasmettono voci frammentate, una dopo l'altra. Poi, una la blocca. È Tariq. Sta parlando con Assu. Il suo tono è impaziente, quasi disperato. Sai dov'è Gurgan? Merjan si appoggia allo schienale. Le sue mani si incrociano davanti al viso. C'è qualcosa di oscuro qui. Qualcosa che sta emergendo. Si alza di scatto. Si avvicina alla lavagna, dove ogni dettaglio del caso è connesso da fili rossi e blu. Qual è il legame tra Tariq e Assu? Si chiede. Sa che Kemal sospetta già di suo fratello, ma ora sente che c'è di più. Chiede altri documenti, altre registrazioni. Deve andare oltre. Deve capire. All'uscita dall'ospedale, Nian è una tempesta in movimento. Le sue parole tagliano l'aria come lame. Ogni pista ci porta a Tufan, ma non ha agito da solo. È impossibile che Assu non sia coinvolta. Il suo sguardo è duro, carico di rabbia e frustrazione. Cammina veloce, ma si volta per guardare Kemal, che la segue in silenzio, perso nei suoi pensieri. Mi stai ascoltando? Gli chiede, fermandosi di colpo. Kemal alza lo sguardo, annuisce con aria distratta. Sì, certo. Ma devo parlare con Akan. Ti aggiornerò. La voce è piatta, distante. Nian lo osserva per un momento, combattuta tra preoccupazione e curiosità, ma alla fine lo saluta con un lieve cenno e si allontana. In un'altra scena, Zeynep esce dalla clinica con Feime al suo fianco. La madre, con un tono amorevole ma deciso, le ricorda le raccomandazioni del medico. Devi riposare e non stressarti. Lascia che ti accompagni a casa. Zeynep, però, scuote la testa con un sorriso stanco. Non preoccuparti, mamma. Voglio passare da Akan. Devo dirgli il sesso del bambino. Feime è riluttante, ma alla fine accetta. Tuttavia, mentre Zeynep sale sul taxi, il telefono le vibra tra le mani. Un attimo dopo, sta chiamando Emir. Voglio vederti, gli dice con un filo di voce. Devo dirti una cosa importante. Se finora hai trovato interessante questo contenuto, aspettati ancora di più. E se non l'hai ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriverti al mio canale e non perderti altri episodi. In un altro angolo della città, Ayan telefona a Leila. Appena sente la sua voce, capisce che qualcosa non va. Cosa c'è che non ti torna? Le chiede, con un tono che cerca di essere rassicurante. Leila, dopo un momento di esitazione, gli confessa il suo turbamento. Ci sono delle stranezze nei conti aziendali. Non so, qualcosa non quadra. Ayan, cercando di sollevarle il morale, la invita a vedersi. Dopo un momento di indecisione, Leila accetta. Ci vediamo presto, dice chiudendo la chiamata. Dall'altro lato, Ayan sorride come un adolescente innamorato. Sussurra, Leila è come un proiettile dritto al cuore e, con un gesto quasi teatrale, bacia il telefono. Intanto, Zeynep aspetta seduta su una panchina all'arrivo di Emir. Il vento le sfiora il viso, ma è l'attesa che la agita. Emir arriva poco dopo, elegante come sempre, e non perde occasione per sfoderare il suo sarcasmo. Che fai, Yoga? Le chiede con un sorriso. Zeynep gli risponde, con un tono a metà tra il serio e l'ironico. Sto prendendo aria. Quando Emir le chiede come stia, Zeynep abbassa lo sguardo per un momento, poi sorride debolmente. Io e il bambino stiamo bene. E dopo un attimo di esitazione, gli rivela il segreto che si porta dietro. È un maschio. Emir alza un sopracciglio, compiaciuto. Un figlio mio merita molto più di una panchina del genere, commenta con il suo solito tono di superiorità. Ma quello che non sa è che Fehime ha seguito Zeynep e sta osservando tutto da lontano, incapace di credere a ciò che vede. È la paura che la spinge ad agire. Si avvicina con passo deciso, il disprezzo dipinto sul volto. Che ci fai qui con mia figlia? Chiede a Emir, la voce carica di rabbia. Lei è incinta e tu stai per sposarti. Emir non perde un colpo. Coglie l'occasione per sferrare il colpo finale, con un sorriso che non promette nulla di buono. Il figlio che Zeynep aspetta è mio. Per un momento, sembra che il tempo si fermi. Fehime lo guarda, incredula. Il suo viso si spegne in un'espressione di puro shock. L'ennesima rivelazione ha appena distrutto ogni certezza che aveva. Emir rincara la dose con il suo solito tono velenoso, giocando sul fatto che Fehime non sapesse nulla. Sembra che tua figlia abbia un talento speciale per mantenere i segreti. Commenta, allontanandosi con un sorriso soddisfatto, consapevole di aver appena seminato ulteriore caos. Zeynep, con gli occhi lucidi, tenta di spiegarsi. Non volevo più nascondere nulla, questa volta. Ma Fehime la interrompe bruscamente. Parleremo a casa. Le ordina, con una rabbia che si mescola all'amarezza. La voce tradisce la delusione, un peso insopportabile per Zeynep che si gira per andarsene. Fehime, invece, resta immobile, incapace di togliersi dalla testa le parole di Emir. Asu è nel suo appartamento, quando un colpo deciso alla porta interrompe il silenzio. Aprendo, si trova di fronte Nian. Lo stupore sul suo volto svanisce rapidamente, lasciando il posto a una tensione palpabile. Nian entra dritta al punto, con una freddezza che gela l'aria. Voglio una confessione. Da te, sull'omicidio di mio fratello Ozan. Asu incrocia le braccia, gli occhi ridotti a fessure. Hai già detto tutto quello che potevi dire, Nian. Ora vattene. Replica, cercando di chiudere la porta. Ma Nian blocca il movimento con una mano, spingendo la porta con forza e costringendosi dentro. Asu esplode. Chiamo la sicurezza, se non esci subito! Ma Nian non si lascia intimidire. La determinazione nei suoi occhi è glaciale. Con un gesto fulmineo, afferra una siringa nascosta e inietta un tranquillante ad Asu. La donna, sbalordita, si porta una mano al braccio. Il suo respiro si fa pesante e il suo corpo comincia a cedere. Mentre Asu si accascia, Nian si china su di lei e le sussurra con tono tagliente. Confesserai tutto, anche se dovrò costringerti a farlo. Poco dopo, Kemal si trova nell'ufficio di Akan che sta impacchettando le sue cose. È stato sollevato dal suo incarico. La stanza sembra fredda e vuota. Il caos dei documenti sparsi testimonia una fine improvvisa. Kemal lo osserva per qualche istante prima di commentare. Ti hanno mandato via in modo piuttosto brutale. Akan, con un sospiro rassegnato, replica. Non è di questo che vuoi parlarmi. Dimmi, perché sei qui? Kemal va subito al punto. Vuole sapere se ci sono novità sul caso della tomba di Ozan. Akan si ferma un attimo, poi risponde. Non sono più io a seguire l'indagine. Mi hanno tolto tutto. Ma Kemal insiste. I suoi occhi penetranti non lasciano scampo. Alla fine, Akan confessa un dettaglio importante. Emir ha detto che è stato Tariq a svuotare la tomba di Ozan. Kemal lo fissa, incredulo. «E tu gli credi?» domanda, la voce tesa. Akan scuote la testa. Tariq ha detto di non essere stato presente quella notte. Non ho mai avuto modo di verificare. Con un'amarezza che traspare dal tono, Akan conclude. «Ormai, per me, è finita. Non posso più agire». Nel frattempo, Merjan è nel suo ufficio. Intenta a esaminare nuove intercettazioni. Un collega le consegna una registrazione che cattura la sua attenzione. è Tariq che avvisa la polizia mentre si trova a casa di Gurgan. Riflette sui nuovi elementi e, con un'espressione seria, ammette a se stessa che Kemal aveva ragione. Tariq potrebbe essere il capo di Gurgan. Quando il collega le chiede se devono mettersi subito sulle tracce di Tariq, Merjan sorride con astuzia. «Ho un'idea migliore», risponde, uscendo dall'ufficio. Mentre cammina nel corridoio, incrocia Kemal. Lui sembra perso nei suoi pensieri. Il peso delle sue scoperte lo rende più silenzioso del solito. Merjan lo osserva per un istante, ammirando la sua dedizione. Si avvicina e lo saluta, con il tono neutro di chi non vuole mostrare troppo interesse. Kemal, dopo un breve scambio di parole, le racconta della sua visita in ospedale. Le spiega che Gurgan non si è realmente svegliato, ma che ha incontrato la moglie e i figli dell'uomo. La rivelazione è pesante. Gurgan aveva confessato di essere stato minacciato attraverso i suoi figli, e questi avevano identificato Tufan come il rapitore. Merjan lo ascolta con attenzione, poi gli ricorda che ogni indizio sembra sempre condurre a Tufan, ma Kemal, con uno sguardo più serio, aggiunge un dettaglio cruciale. Gurgan ha detto che era a Sue a dargli ordini. Merjan, colta di sorpresa, lascia cadere le chiavi che aveva in mano. Quando si china per raccoglierle, un dolore alla schiena la immobilizza. È la sua ernia che si manifesta nei momenti peggiori. Kemal, vedendola in difficoltà, si offre di accompagnarla. Lei tenta di rifiutare, ma alla fine cede, accettando il suo aiuto. Forse, pensa, questa è l'occasione per capire di più sulle prossime mosse di Kemal. A casa di Asu, la tensione è soffocante. Asu è seduta su una sedia, lo sguardo agitato che vaga per la stanza, mentre le mani tremano appena. «Cosa mi hai iniettato?» chiede con voce spezzata, cercando un appiglio nello sguardo glaciale di Nihan. Quest'ultima, invece, è imperturbabile. Si siede di fronte a lei, fissandola senza un'ombra di compassione. «È lo stesso veleno che ha ucciso mio fratello?» risponde, con una calma agghiacciante. Le sue parole colpiscono Asu come un pugno. Nihan si sporge leggermente in avanti, gelida, e aggiunge, «hai un'ora di tempo per confessare tutto. Solo allora deciderò se portarti in ospedale per salvarti». Nel frattempo, in auto, Kemal fissa Merjan con un misto di sospetto e curiosità. «Dove stiamo andando?» le chiede, cercando di ottenere una risposta. Ma lei rimane evasiva. Un sorriso misterioso le sfiora il volto. «Lo scoprirai a tempo debito», risponde, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Poi, come per cambiare discorso, domanda, «Allora, quale sarebbe l'argomento importante di cui volevi parlarmi?» Kemal si fa più serio, il suo tono è grave. «Chiunque abbia spostato il cadavere di Ozan sta cercando di nascondere la verità sull'assassino», dice, lasciando che le parole pesino nell'aria. Merjan annuisce, il suo sguardo si fa pensieroso. L'atmosfera nell'auto diventa densa di tensione, entrambi immersi nei loro pensieri. Ogni tassello che si aggiunge al puzzle sembra complicare ancora di più la situazione. Kemal, preoccupato, rompe il silenzio. Dove pensi che abbiano nascosto il corpo? Merjan si concede qualche istante prima di rispondere. Se fosse stato spostato, probabilmente è stato collocato in un'altra tomba. Un trucco efficace per garantire che non venga mai scoperto. Kemal annuisce, riflettendo. Un piano del genere renderebbe quasi impossibile qualsiasi indagine. Osserva, il tono rassegnato. Propone di iniziare a controllare i cimiteri, ma Merjan lo frena subito. Richiedere i permessi necessari richiederebbe tempo. Troppo tempo, spiega, accennando vagamente di avere un'altra idea. Kemal insiste per saperne di più, ma lei rimane evasiva, lasciandolo in sospeso. In auto, Kemal perde la pazienza. Dove stiamo andando? Chiede di nuovo, con tono più deciso. Merjan, dopo un momento di silenzio, finalmente cede. Stiamo andando a casa di Asu, rivela, con un sorriso enigmatico. Le parole lasciano Kemal in silenzio, consapevole che la destinazione potrebbe portare nuove rivelazioni o nuovi pericoli. Feime è distrutta. Ogni parola di Emir le rimbomba nella mente come un eco crudele. Scoprire che Zeyn e Pedemir hanno un legame è stato come ricevere un colpo al cuore. Seduta sul divano, con lo sguardo perso nel vuoto, sente la vergogna e la delusione invaderle il corpo. La voce di Zeynep la riporta alla realtà. Mamma, non sapevo che Akana avesse detto che il bambino era suo. Feime la interrompe, con gli occhi pieni di lacrime. Basta mentire, le grida. La sua voce è un misto di rabbia e disperazione. Ha ingannato tuo padre, tutta la famiglia. Come puoi continuare a causarci tanto dolore? Chiede, la voce spezzata dall'emozione. Poi, sfinita, sussurra A volte penso che sarebbe meglio morire, piuttosto che vivere questo incubo. Zeynep la guarda, scioccata, ma non trova il coraggio di rispondere. Sa che le sue parole, questa volta, non basteranno. A casa di Asu, la tensione è palpabile. Asu, seduta su una sedia, cerca di mantenere la calma, ma il tremore delle mani la tradisce. Che cosa mi hai iniettato? chiede con voce incerta. Davanti a lei, Nian si muove con calma inquietante, pulendo ogni possibile impronta. Si ferma solo un attimo per risponderle, con un tono gelido. È lo stesso veleno che ha ucciso mio fratello. Poi, si siede di fronte a lei, fissandola con uno sguardo che non lascia spazio alla pietà. Hai un'ora per confessare tutto. Solo allora deciderò se portarti in ospedale. Aggiunge, il tono privo di emozione. Asu si sente sempre più debole e cerca di resistere. Qualunque cosa tu faccia, verrà scoperta, tenta di dire, con il fiato corto. Nian, con un ghigno soddisfatto, spiega ad Asu che le telecamere non hanno registrato il suo arrivo, dimostrando la sua crescente abilità nel gestire situazioni simili. Asu, visibilmente debilitata, inizia a supplicarla, dicendo di sentirsi male, ma Nian rimane impassibile. Con un'espressione fredda, le lancia insulti, definendola disumana e un'assassina. Siamo quasi alla fine e fidati, non vuoi perderti l'ultima rivelazione. Se ti sta piacendo questo video, iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi. Nel frattempo, Kemal e Merjan arrivano sotto l'edificio. Kemal nota il disagio di Merjan per il mal di schiena e, con un sorriso ironico, le suggerisce di cambiare le scarpe. Merjan scherza sul fatto che i tacchi siano il suo biglietto da visita, ma alla fine cede e si cambia prima di salire. Prima di entrare, ordina a Kemal di rimanere in auto, assicurandogli che gestirà la situazione da sola. Kemal accetta, seppur visibilmente contrariato. All'interno dell'appartamento, Nian continua a tormentare Asu, cercando di spezzare la sua resistenza. Asu insiste sulla propria innocenza, ma la determinazione di Nian cresce. Arrivata al culmine dell'esasperazione, Nian le afferra il viso con forza, obbligandola a confessare. Alla fine, Asu, tremante e spossata, mormora un nome. Tarik. La rivelazione lascia Nian scioccata, incapace di credere alle sue orecchie. Prima che possa approfondire, sente bussare alla porta. Guardando dal foro, vede che si tratta di Merjan. Esita un istante, ma poi decide di aprire. Merjan entra nell'appartamento con passo deciso, sorpresa di trovare Nian lì. Lo sguardo della poliziotta si posa subito su Asu, che appare esausta e malconcia. Chiede cosa stia succedendo e Nian, con tono sarcastico, spiega che Asu si sentiva male e che le ha somministrato un tranquillante per calmarla. Aggiunge di averle parlato nella lingua che ritiene più efficace, facendo trasparire un sottile disprezzo. Merjan, infastidita, intima a Nian di lasciare che la polizia si occupi della situazione, sottolineando che il suo comportamento è inaccettabile. Nian, però, si difende, accusando la polizia di lentezza e ribadendo che Asu è l'assassina di suo fratello. Kemal, stanco di aspettare, decide di salire. Quando entra nell'appartamento, rimane incredulo nel trovare Nian lì. irritato, le chiede spiegazioni. Nian risponde che stava cercando di far confessare Asu, ma quest'ultima, con un filo di voce, accusa Nian di aver tentato di ucciderla. Nian si difende, sostenendo di averle dato solo un tranquillante, senza alcuna intenzione letale. Merjan interviene, con tono autoritario, ordinando a tutti di lasciare l'appartamento e di spostarsi altrove per continuare la discussione. Kemal, deluso e indignato, rimprovera Nian per aver agito senza consultarlo. Ma lei, risoluta, ribadisce che la giustizia è troppo lenta e che a volte bisogna agire da soli. Alla fine, il gruppo lascia l'appartamento. Nian e Asu salgono nell'auto di Merjan, sedendosi sul sedile posteriore. Appena partiti, la tensione esplode nuovamente. Nian continua a minacciare Asu, promettendole che pagherà caro per tutto ciò che ha fatto. Asu, disperata, si rivolge a Merjan, chiedendole se stia ascoltando le minacce. La poliziotta, cercando di mantenere la calma, non risponde direttamente, ma il suo sguardo tradisce l'impazienza. Kemal, seduto accanto a Merjan, tenta di far cessare il litigio, ma la tensione nell'auto è teso. Se vuoi ricevere nuovi video della serie, scrivi Voglio il seguito nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!